anche così guarda questa parte qui la possiamo levare o mi leva la zonizzazione mi leva la zonizzazione però però potremmo piazzarci un posteggino anche qui che magari non fa male vediamo un po' se loro ce l'hanno i posteggi interni non c'hanno un bel niente si beh qualcuno però però in effetti non ce n'è macchine posteggiate il bordo strada poche però un posteggio mettiamocelo dai ha senso ha senso che un posteggio ci sia tipo così col vicolino e qui è in dislivello ma mica guai mica guai è lì che sale però qui neanche tanto quindi forse possiamo sbulaccare un po' di più tipo così lasciamo giusto le vie perché non mi ricordo questo dove va come apprendeva anche sto pezzo qua ora devo dire mica guai vuol dire non tanto mica tanto tipo sono dicendo che c'è aspetta te c'è che hai modo di contattare GR devi guardare il discord però può va bene penso che sia lavoro forse non lo so ah no 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 un cornava ha detto che guardava il geno però si va bene mi scrivo ok vediamo se è abbastanza piatto da non far venire delle porcate potrebbe tanto richiesta sull'industriale c'è un pacco e dobbiamo trasferire anche tutta la zona vecchia è genovese ma stretto o no però è genovese sì è anche abbastanza utilizzato però dipende ovviamente anche dalla zona questo ci avete qua clienti insufficienti e state scherzando adesso veniamo a risolvere prima andiamo a sistemare un po' qui levando un altro bel pezzo ok quindi questa zona qua me la vai trasferire tutta tanto di là abbiamo fatto abbastanza zonizzazione per metterci tutto hai contatti genovesi Michela che ogni tanto senti qualche parola vanno noto sto edificio lo andiamo a rifare cosa ci avete qua il fitto alto va bene allora i clienti in realtà invece di Sanremo eh ma Sanremo sai e comunque dall'altra parte si parla già un dialetto diverso eh già Genova e Levante si parla diverso e qui c'è tutto verde dovreste avere clienti a bizzeffe forse ne abbiamo messe troppe in ogni caso abbiamo ancora un monumento da piazzare più 1% attrattività in tutta la città e più 4 benessere ecco questo lo potremo piazzare per provare a ovviare a questo questo poco pochi clienti magari in questa zona tipo qua anche se è una zona di discreto passaggio però proviamo così o no facciamo campanilismo in silenti che sento una lingua di terra grande no no sì sì no non è per campanilismo dico che comunque effettivamente sono due lingue molto diverse sono due dialetti molto diversi ecco ma basta che vai anche semplicemente come ripeto già Levante e Genova ma anche Genova e Spezia no scherzi ma hai ragione perché c'è un campanilismo impressionante qua però nello scherzo una parte di serietà c'è nel senso che comunque i dialetti soprattutto sono effettivamente diversi ecco qua magari in realtà potevo non farlo così eh potrei abbassare un po' a livello di questo e poi lo addonciamo verso qua e facciamo fare la stessa discesa quindi abbassiamo il livello massimo quindi abbassiamo il livello massimo e poi lo livelliamo di qui è uguale sì perfetto perché poi prima o poi andremo anche in questa zona e tipo così lo addolciamo in qua che è più o meno come questa qua di fronte poi ci credo stavo scherzando sono sarda ogni paese cagliaritano parla in un dialetto diverso quelli di sassi è proprio un'altra lingua sì esatto beh più o meno ovviamente sono tutti molto simili ma un po' qui deriva anche dal fatto che fossero proprio delle dei governi diversi nel senso ovviamente negli anni che furono ma negli anni delle repubbliche mercantili Genova e Savona erano proprio due cose differenti uno era Savoia e uno invece era una repubblica quindi anche da lì si arrivano poi influenze francesi da Savona quindi in francese ha molte parole simili al genovese mi piace Michael Guay mi ricordo di Is Gay ecco Is Gay da noi non si usa per esempio però so benissimo che cosa sono da noi si dice le palanche poi di Nea dipende che cosa come lo dici vacca vacca qua c'è dell'altro di livello allora adesso pareggiamo e poi vediamo poi vediamo dove deve portare un livellamento un po' più addolcito per esempio qua non l'abbiamo fatto troppo male poi bisogna vedere come viene con le case però vediamo perché se no si potrebbe provare a livellare tutto così ma probabilmente viene male qua dalla scuola ma no non mi sembra non possiamo far così per ora penso che comunque qua sale per riscendere di nuovo potremmo semplicemente fare meno dislivello ora riaddolcisco di nuovo ovviamente dobbiamo spostare la costruzione perché la ripiazziamo di nuovo perché se no qua ci rimane un buco ok la ricollochiamo di nuovo qua vicino e poi andiamo a fare un po' di addolcimento e poi vediamo come è venuto una volta che finirà la neve Google l'ha fatto uguale? no buonasera non c'è alert? come non c'è alert? c'è un problema eppure l'alert box c'è? non l'avete visto vero immagino? e mi spiace sì devo risolvere allora questa ecco vedi pensavo andasse tutto invece non va una cip l'alert c'era ma bianco su bianco non si è visto ah ok quindi c'era ma non c'era l'audio solo aspetta un attimo e no eppure ce l'ho ma l'avete sentito l'audio? perché io assolutamente no annullo l'albonamento perfetto brava brava si defai benissimo alert sentito allora di cosa vi lamentate? sono solo io che non lo sento aspetta un po' e perché non lo sento? non lo sento perché l'alert box non me la sono messa no c'è monitora l'audio non si è vista la scritta perché bianca su bianca? ok va bene allora non ti lamentare se mi hai scritto che la musica quello si io proprio non l'ho sentito niente assolutamente manco tu hai sentito e visto? ah che cazzo allora ah è bassissimo aspetta un po' mi stringono per il colpo stanno strangolando mi non vedendo il decollo è bassissimo quelli ma siete matti? Gersu sei matto anche te è un modo munito di spadina aspetta un po' che non l'ho letto ok aspetta un po' ecco qua lo leggo molto meglio un modo munito di spadina e stemmino sono pronta a bannare tutti bravo banna a Sid allora e Sid semplicemente dice bella lì non l'hai vista né Apollo né Magena? come? allora io adesso ho visto tutto perché sono andato su OBS per andare a vedere però era molto molto basso quindi cerco voi l'avete sentito molto basso e quindi lo devo alzare direi di sì intanto grazie mille a entrambi sia Sid che Gersus 14 mesi e aspetta un po' eh qui non si legge un bel niente 14 mesi e ah 12 Sid tu dovresti aver avuto la musichetta dell'anno quindi compleanno buon compleanno dai su qualcuno che si abboni che parte l'hai e invece cosa va scritto? mi sono perso qualcuno hai mangiato una pomminestrine? sì anche a pranzo minestrina con la pastina sì 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 sono sono in ipervieto allora proseguiamo qua come state intanto? grazie ancora entrambi per il doppio abbonamento come sempre grazie mille allora idoneità residenziale mi dice cattiva ma secondo me è semplicemente per un colore no me lo dà comunque idoneità residenziale bassa guai per quale motivo troppo rumore? oppure qua sta crescendo anche fammi vedere ancora un po' quindi mi dà il verde qui ah però perché questa è bassa che scemo grazie al cazzo perché sono sulla bassa densità se vado su una densità più alta me la dà corretta se questioni poco sì ok allora approvi va bene va bene apro non approvo vabbè era un bar quindi beh sì giustamente intanto qua non ce l'avrei messa la bassa densità ci avrei messo giusto un po' di alta un po' di media la bassa la teniamo per questa zona qua costiera ecco qui adesso vediamo se riusciamo a far alzare un po' il numero di clienti anche se loro vogliono ancora residenziale vogliono ancora commerciale però magari piazziamo qui due bei palazzoni in alto e li preparo già per quando ci sarà richiesta qui uno e due ok e poi andiamo a fare un po' di medio visto che ne abbiamo anche di questa richiesta così e così un bel palazzoni me ne fa due ne fai due perfetto preferisco così c'è una bella serie di ville taschiera con poi la pioggia privata praticamente ora un albero un albero magari sul mare lo potremmo anche levare onestamente perché non è che mi piaccia molto quanto meno quelli proprio che si affacciano sull'acqua e qui se riusciamo ad allargare un po' meglio tipo no non è quello che volevo fare neanche questo ora poi addolciamo che se no fa cagare però quello che intendeva era così in modo da allungare un po' ecco no cercando di livellare un pochino ma non è facile proviamola con l'addolcimento sì se andasse un po' più in avanti non sarebbe male ma violetta sul mare mica mi farebbe schifo eh dilla a me Michele però se la vuoi te la facciamo e te la nominiamo scusa che scemi siamo qua apposta se ce n'è uno in particolare che ti piace oppure se vuoi scusami sul lungomare è più bello anche in questa zona sono più belle quelle in altra zona metti il buccato va bene chi è molto meglio scusa sono più belle queste qua c'è un'altra abbandonata eh troppo grosse forse queste eh fate due più piccole preferiamo guarda che belle queste sono evolute sono di livello 4 così su due piani con la terrazza guarda che bella scusami non c'è non c'è fatto le villette schiera per noi ditemi quale volete questa mi piace molto guarda con la piscina con la terrazza sul mare diciamo il non giardinetto il terrazzo sul retro box chiaramente su due piani bellissime queste case la compri perfetto e questa come la chiamiamo allora casa ah però non c'è nessun residente attualmente vabbè arriveranno arriveranno adesso perché la prendi te giustamente casa di Michele la inseriamo no la possiamo inserire non la possiamo inserire tra i preferiti peccato la tua villetta ciro dove la vuoi ce n'è un po sempre qua semplice questa qua che mi piace molto che è più tipo casetta di campagna è sempre sul lungomare se lo volete se no ce n'è anche ce n'è anche nella via subito dietro bella questa la piscina mi è convinta mi sembra giusto sono molto carine le case comunque caratterizzate bene questo che è un po' folle perché a meno 11 d'inverno tiene la piscina questa però mi son perso quale perché potrei essere andata avanti questa qua strada di marzo 274 piano unico con piscina ok direi questa qua allora però scusi cos'è questa barbona di parcheggiare sulla strada è lo te pure c'è il box anche e questa invece è a casa di o della c'è a casa dell'assessore barbonata sì sì è vero ciao ste mi dica christian che nome ci vuole dare alla casetta perfetto intanto ricchezza di un'unità abitativa ricco sembra giusto vedi che non carica le texture sì adesso è vero anche l'altra volta me l'ha fatto e le altre volte invece no cosa strana è veramente una cosa strana però che ci dobbiamo andare casa dell'assessore se mi sembra avergli dato il nome giusto aspetta che vado a ricontrollare casa dell'assessore sì giusto perfetto è schiattato qualcuno non non deve essere neanche così facile risolverlo qualche pace è uscita non ha cambiato radicalmente le cose vedremo nelle prossime quando ho gioco solito da per tutto porca vacca ho gioco solito tutta la zona e vorrei che sono trasferiti da là ma sono dei passi fulminati di qua la facciamo tutta sì facciamo tutta vai così vai così tanto qua non ci facciamo niente che c'è l'autostrada di fianco posso avere mamma e la sinde come vicini di casa certo certo andiamo a vedere devo riprendere la tua ma mi sembra fosse questa esatto allora diamo la gemella la tua a chi alla mamma o alla sid e l'altra posteggia per strada invece cioè comunque nel vialetto ma non posteggia non al box perché è un livello più basso no livello 4 magari semplicemente una casa un po' più piccola però hanno la piscina tutte e tre tutte e tre avete la piscina comunque qualcuno c'è una roccia enorme non so il perché la mamma quella grande che ha parole giusto vabbè c'ha tutto il giardino per i gatti cos'è questo ci nascondono qualcosa secondo me anche perché qua residenti sei tre bambini gersus cosa ci nascondi tre bambini un adolescente io non so però qua invece sono in qua nessuno per ora casa della sid e qua invece casa di mamma che pizza perfetto così almeno siete mamma michela e sid pubblicità di tre ore ma come tre ore dovrebbero essere poche tipo 90 secondi 30 secondi e quanto vi vengono in totale le pubblicità come secondi ciao sinombre buonasera come stai tutto bene andiamo a risolvere un po' questo problema dell'industria che qui è richiesto a proposito andiamo a vedere se come produzione siamo più o meno a posto allora ci manca un po' di agricoltura questa la potremo risolvere legna ci siamo perché ne produce 273 tonnellate sopra il surplus di brutto dalla tua risposta ad adesso è un minutino più o meno bene grazie anche se ieri da me ci sono stati 60 eh vento vento ce n'è tanto anche qua se non così tanto però ce n'è tanto spero che non abbia fatto danni principalmente ci sarebbe da metterne una di rocce e una di verdure vediamo un po' la zona delle risorse qual cavolo è risorse naturali non me lo ricordo eccolo qua allora questa cosa che faceva animali e altre aree agricole ce l'abbiamo solo qua prima che arrivare l'autonatifica mi stavo guardando i finali di clash royale ah c'è qualche campionato potremmo comprarlo a sto punto qua ci avviciniamo anche poi alla ferrovia che è qua questa prima o poi ci dovremmo arrivare bello sto svincolo mi piace prima o poi anche lì ci bisogna bisogna pur passarci e più o meno però ci sta nel momento dell'assinazione delle case eh sì è vero è che il problema in realtà è che potrei ovviarlo quello è che non con questi giochi gioco a schermo intero e quindi non vedo non vedo bs se no bs me lo dice non è che lo fa molto vedere però si può capire se lo smetto di far cosa a caso e potrei rimandarlo sì l'abbiamo preso però giocando a schermo intero me lo perdo allora qui come ci arriviamo ci arriviamo dritti da qua ci arriviamo dritti da qua azienda ortofrutticola non produce tantissimo ma va bene si risolve facendo quello sicuramente quello sicuramente eh vorrei approfittare per prendere più cerchio possibile direi che così va bene e dovrebbe anche essere dritta sulla strada che arriva però è secondo me ha intensificato Twitch anche per quello cerca di obbligarvi tra virgolette a far la sub a mio parere perché che abbia aumentato sta cosa è un po' sospetto adesso poi lo sistemiamo bene quando arriva la strada vabbè si ho carinato qualcosa ovviamente ora lo ingrandiamo il progetto stiamo facendo allora stiamo spostando vabbè stiamo finendo di spostare tutta la zona industriale ecco questo è già in mezzo e vogliamo aggiungere un'industria per creare un po' di verdure perché non ne abbiamo certo se no come ci guadagna mica per questo rimanere dentro le priscine esatto se sono molto d'accordo su quello su quello però è come spesso a un certo punto ci deve guadagnare anche lui allora in realtà va anche bene solo che questa l'ho fatta troppo a larga facciamo così e poi la settiamo dopo e la notte di venerdì sabato ho avuto 4 slot in due ore scarse da 11 allora quella in realtà è settabile nel senso che noi possiamo settare quanti minuti ogni ora di pubblicità mettere e come disporne e come disporle tipo io per mio gusto personale penso che sia meno invasivo a mettere più pubblicità per meno tempo piuttosto che meno pubblicità per più tempo ovvero nel senso pubblicità più frequenti ma che durino meno e il totale sono 3 minuti ogni ora di pubblicità però si può fare anche il contrario cioè si può settare di avere che ne so uno slot in pubblicitario di 3 minuti ogni ora invece che 4 slot pubblicitari di 40 secondi praticamente quella è una cosa che possiamo settare e ho visto che ci sono pareri discordanti ecco anche qui anche tu Michela mi avevi detto che mi sembra che preferissi più pubblicità più lunga ma meno spot praticamente invece per esempio personalmente sopporto facilmente ecco diciamo pubblicità brevi non sopporto un minuto e mezzo di pubblicità ho fatto 11 spot pubblicitari circa 5 minuti per 4 volte in una durata di live di 2 ore di 2 ore sono un po' tante sì però comunque sotto certi limiti non possiamo andare il minimo minimo dovrebbe essere 2 minuti e mezzo e io ho mantenuto i 3 minuti perché in questo modo con questo settaggio posso eliminare i pre roll che penso che sia normale di tutto i pre roll sono le pubblicità all'ingresso che quelle proprio non le sopporto ma quando sto guardando un blocco da 30 secondi all'inizio questo da un minuto più un minuto più uno da 30 e sovrimpressione ok in elementi le hanno 2 minuti di live ogni ora e ci... 52 minuti sul pubblicità va bene a te sì perché perché fattori tanto e quindi giustamente è giusto spingere sul pubblicità eccoci non è proprio un campo molto regolare ma così è qua c'è ancora un po' di zona coltivabile ah però siamo arrivati al limite ok perfetto e qua abbiamo fatto una nuova aziendina non è grande diciamo che ho le e tracce di live nella pubblicità c'è un po' di live in questa pubblicità poi qui qua che siamo molto vicini a autostrada io farei un unico blocco direttamente non starei a fare viette interne l'unica cosa che potremmo fare è fare un sottopasso per sbuccare di là quello si potrebbe anche pensare ah aiaiai qua ci sono delle risorse che non avevamo viste prima o sbaglio no? ah no c'era una cosa d'acqua c'era dell'acqua c'era dell'acqua perchè ora ne produciamo 24 quindi 50 tonnellate al mese e poi bisognerebbe fare un po' di pietrozze perchè comunque 29 tonnellate al mese non sono poche però vediamo tanto ora non sta caricando proprio niente eh assolutamente non carica mezza texture non carica